Il 10 settembre si celebra la festa di San Nicola da Tolentino, un sacerdote agostiniano la cui vita è un luminoso esempio di fede, compassione e miracolo. È possibile ricostruire la figura di Nicola da Tolentino alla luce dei documenti per il suo processo di canonizzazione, indetto da Giovanni XXI il 23 maggio 1325, e tenuto nel ventesimo anniversario dalla sua morte, Nato nel 1245 a Sant'Angelo in Pontano, un piccolo borgo marchigiano grazie a un voto che i genitori fecero a San Nicola da Bari, da cui prese il nome. Nicola fin da bambino mostrò una spiritualità precoce, tanto che già da giovane sentiva un irresistibile richiamo alla vita religiosa. In famiglia, spesso raccontava di sogni e visioni che lo indirizzavano a una vita dedicata a Dio. Condusse una vita ascetica, seguendo una ferrea regola spirituale. Entrato nell'ordine di Sant'Agostino, Nicola si distinse per l'estrema umiltà e una carità che non conosceva limiti. Nonostante la sua debole costituzione fisica, trascorreva giornate intere assistendo i poveri, consolando i malati e predicando instancabilmente. Il suo spirito di sacrificio era tale che spesso digiunava e praticava penitenze severe per purificare il suo corpo e offrirsi completamente a Dio. Il dono dei miracoli divenne presto parte integrante della sua esistenza. Si racconta che un giorno, mentre camminava per le strade di Tolentino, venne avvicinato da una madre disperata perché il suo bambino stava morendo. Nicola non si tirò indietro e con una fede incrollabile pregò per il bambino. Miracolosamente, il piccolo guarì all'istante. Questo episodio segnò l'inizio di una serie di prodigi, tanto che Nicola divenne noto come l'uomo dei miracoli. Uno dei miracoli più celebri attribuiti a San Nicola riguarda la sua visione di anime del purgatorio. Durante una notte, mentre pregava nel suo convento, ebbe una visione in cui numerose anime lo supplicavano di aiutarle a trovare la pace eterna. Da quel momento si dedicò con rinnovato fervore alla celebrazione delle messe per le anime defunte, tanto che alla sua morte, avvenuta il 10 settembre 1305, si racconta che una luce celeste illuminò la sua stanza e si udì un coro angelico. Il pane di San Nicola, benedetto in suo nome, è un'altra delle tradizioni che si lega alla sua figura. Si narra che con un semplice pezzo di pane benedetto, Nicola guarì malati e sfamò poveri, donando conforto e speranza a chiunque ne avesse bisogno. Questo gesto umile e potente ancora oggi viene commemorato con la distribuzione del pane benedetto nelle chiese a lui dedicate. Fin dal principio delle lotte spirituali con il nemico, San Nicola fu soggetto a numerose malattie e infermità che esso attribuiva alle malignità e agli inganni di Satana. In una di queste malattie, la Vergine Glili apparve e gli ordinò di prendere del pane fresco e di intingerlo nell'acqua se voleva riacquistare la salute. Tale è l'istituzione dei pani di San Nicola. I miracoli che furono compiuti per mezzo del pane benedetto si moltiplicarono talmente, dopo la morte del santo, che Papa Eugenio IV prescrisse per la benedizione una formula speciale. Più tardi, nel 1622, la Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari dichiarò che soltanto gli eremiti di Sant'Agostino godessero il privilegio di benedire e distribuire ai fedeli il pane miracoloso. Per mostrare quante grazie sono da ciò derivate meriterebbe un altro capitolo, uno dei fatti più importanti, che riempì di ammirazione tutta la cristianità, avvenne negli anni 1601 e 1602, una peste violenta devastò la città di Cordova e l'intervento del santo fu determinata. È invocato come protettore delle anime del purgatorio, ma anche come protettore in caso di incendio e di epidemie. Grazie a tutti.